La Calabria si conferma terra fortunata nelle recenti estrazioni di Lotto e Dieci e Lotto, con tre vincite significative registrate nella regione per un totale di oltre 67.000 euro. La più consistente è arrivata a Botricello, in provincia di Catanzaro, dove un fortunato giocatore ha portato a casa ben oltre 52.000 euro. La somma è stata quasi interamente frutto dell'opzione Oro del Dieci e Lotto, che da sola ha fruttato 52.166 euro, trasformando la schedina in un colpo da maestro. A Castrovillari, nel Cosentino, un'altra importante vincita, con una giocata da appena un euro, un appassionato ha centrato un otto nella modalità frequente del Dieci e Lotto, incassando 10.000 euro. Il trist di successi si completa a Borgia, ancora nel Catanzarese, dove un giocatore ha realizzato un set nella modalità dell'otto legata all'estrazione, vincendo 5.000 euro con una puntata di soli 2 euro. Le vincite dimostrano come il gioco, se affrontato con moderazione, possa regalare soddisfazioni a fronte di investimenti minimi. La Calabria, con queste ultime estrazioni, si conferma tra le regioni più fortunate, regalando speranza e sorrisi ai suoi giocatori.